Spider Huggy, Nightmare Huggy, Zebra Huggy, Sass Huggy Ma quanti Huggy esistono? Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e oggi cercheremo di sbloccare tutti gli Huggy Wuggy possibili Cioè guardate qua, sono centinaia di Huggy Wuggy, tantissimi C'è pure Freddy Huggy Ma come? Quindi se volete un Huggy Wuggy, iscriviti al canale ora perché stiamo arrivando a un milione di iscritti Fate iscrivetevi il vostro gatto, il vostro cane, il vostro criceto, tutti E lascia un pollicino in su Possiamo iniziare Eeeh Pingu, siamo ritornati su Poppy Playtime Scusa, non è colpa mia che ti volevo portare qua Ragazzi, benvenuti nella fabbrica di giocattoli di Poppy Playtime Eeeh ma, ma, ma come? Guardate ho il grab pack E lo posso anche la... No vabbè ma mi fa da rampino, aiuto ragazzi Il grab pack mi fa da rampino Cioè colpisco qua a pendere No, troppo bello Dobbiamo sbloccare Tutti gli Huggy Wuggy possibili Come faccio a sbloccarli? Come mi dite, mi spiegate Uh che bello Un po' sas Ho trovato un cestino sas Lo posso prendere? Ho preso il cestino sas Che cosa? Ho sbloccato un premio Sass Aghi Come Sass Aghi? Ho sbloccato Aghi Wagi Sass Ciao, ciao Mamma mia quanto sei grosso Adesso divento io più grosso Trasformazione Sono diventato un Huggy Wagi Un po' sas E già ho sbloccato un Huggy Wagi No vabbè ma dove si va qua? Ma cosa sto andando? Dove sto andando? Sto andando nelle segrete di Poppy Playtime Ragazzi ma chi è che si è inventato questi Huggy Wagi? Un genio Troppo belli Ah no! Baldi Ah sas Basic Dove sto andando? Ma cosa sto inseguendo? Cosa c'è qua? Cos'è questo? Ho trovato I Frozen Huggy Già ne abbiamo sbloccato un altro No Fantastico Ma come è fatto bene questo gioco? Adesso sono Frozen Huggy Ehm Let it go Let it go Questo è praticamente Huggy Wagi Che hanno preso E lo hanno messo nel congelatore Mi dispiace tantissimo per Huggy A tutto quello che gli fanno Bingu Stai bene dopo essere entrato nel congelatore Nooo Aiuto Aiuto Stai inseguendo Ma sta inseguendo il player No ma no Ma poverino Aiuto 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 No ma che fanno Attaccano pure me Ehi ma siamo fratelli Kissi Kissi Ti prego siamo fratelli Oh brah Meno male Ok cerchiamo di scoprire altri segreti Che cosa altro possiamo sbloccare Dobbiamo cercare nuovi Huggy Soprattutto io voglio sbloccare L'Huggy Wagi Più raro di tutti L'Huggy Wagi Di Sonic Abbiamo anche le zone In cui ci possiamo Teletrasportare Quindi Per sbloccare Diciamo tutti L'Huggy Wagi Facciamo così Per ora mi trovo qua Sblocchiamo questo L'Huggy Wagi Che ci sarà un L'Huggy Wagi Sbloccato L'Huggy Ink Ag Ma è l'Huggy Wagi Di Bendy Ink Machine Sono Huggy Ghiaccio Lo vuoi un ghiacciolo Lo vuoi un ghiacciolo Ehi senti Allontana con le mani su Dici da me Sì grazie Huggy Aspetta Come te lo do il ghiacciolo Ehm Pingu Dai solo un ghiacciolo No Oh mazza quanto sei tirchio Eh Allora Capiamo come facciamo Sbloccare Sonic Huggy Devi trovare La stanza Segreta Della hobby Nascosta Completare L'Hobby E trovare Sonic Huggy Ehm Dove trovo La hobby Per prendere Sonic Intanto ho gente Che si butta a caso Ehm Ragazzi Dove sta La hobby segreta Qualcuno mi aiuti Mi spiegati Io l'avevo trovata Lori Vieni lo spawn Ok Vieni Se ti seguo Lui ci porterà Al Sonic Huggy Ehi perché voglio vedere Sonic Huggy Dov'è Ok sono pronto Ti sto seguendo Uomo Mcdonald Perché a quanto pare Questo lavoro Dal Mcdonald Ha deciso di Licenziarsi E farmi da guida Su pop Playtime Questa è la hobby segreta Ma che cos'è qua Non qua Come non qua Non è questa Ah qua c'è un badge Ok prendi il badge Prendi Axelot Huggy Ho sbloccato Axelot Huggy Guarda Axelot Di Minecraft E neanche arriva Ai livelli di questo Huggy Axelot È il più bello Che ci sia Ok L'hobby sta di qua Ti seguo Ti seguo L'orea l'ho trovato L'ha trovato L'ha trovato Ragazzi L'ha trovato L'ha trovato L'hobby segreta Ok È di qua Ma io non posso Fare questa hobby segreta Così Come faccio a saltare Eh Grande Grazie Ragazzi Guardatela Chi c'è Innefferati Devo prenderlo Ok Attenzione Vai Vai Ok Ora di qua Devo provare Ad andare Qua Sì Non cadere Non cadere E poi basta Che tocco qui E lo prendo Ho preso Il Nightmare Huggy Ragazzi Il Nightmare Huggy Ma vediamolo Questo Nightmare Huggy Ok vado su Shop Mamma mia È troppo Bello Adoro Questo Huggy Waggy Ciao Mamma mia Ma questo qua Si è sdoppiato Qualcosa Mi dice Che ci sono Huggy Waggy Ancora più Belli Perciò Sblocchiamo Un altro Più esploriamo Più andiamo a vedere Cose nuove Nuovi Huggy Ok Questa qua È molto semplice Pingu Non ti preoccupare Tu puoi essere Stealth Tu sei un agente Segreto Della Ciao Bravo Fai come lui Segue Il tuo Comilitone Segue Il tuo amico Ora credo Che il Quando possa Arrivare là No Ciavolo Ci possa Arrivare Così Mamma mia La serietà Che proaccine Tu si Che sei un Grande It's me Huggy It's Qualcuno qua Ha un tubo Da riparare Vedo Grandi perdite Di acqua Eh Io sono Il vostro Idraulico Preferito Utilizzo L'idraulico Gel Vi serve Una mano Ma perché Qua è tutto Allagato Beh Ma che sto Uscendo C'è un Ragno Aspetta 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 Spide Huggy Devo Prenderlo Queste Sono Tutte Missioni Stelte Per Spendere Spide Huggy Prendilo Ah Facile L'ho Preso L'ho Preso Ho Preso Spider Huggy Ma è Stato Così Semplice Pingu Oh Senti Ho capito Che non Ti piacciono Ragni Ma ora Te lo Farei Piacere Guarda Quanto È Bello Guarda Guardalo Quanto È Bello Bellissimo Quanti occhi C'ha Uno Due Quattro Occhi Mamma mia Non ti bastano Gli occhiali Mi sono Perso Questo Anche Incendiato Un attimo All'inizio C'è un hobby Segreto All'inizio Può Essere C'è un Fuoco Qua Oh Ah ecco Ecco Perché Perché Agiwag C'è andato Di sopra Ragazzi E si è Incendiato Ah Va da fuoco No 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 Pingu Non piangere Non ti preoccupare Anche se vai a fuoco Ho capito dove si trova È dentro quel fiore Dobbiamo andare da poppi E Chiederle per piacere di darcelo È l'unico modo Eccoci Siamo qui Pingu Sarà difficile Ma credo Credo che il luogo sia qua Esatto è qua È là dentro Ti ho visto È qui Ok Stiamo attenti Ok Ok E fino a qua Ci siamo Cos'è sta cosa Cos'è sta cosa Come faccio a passare Di sotto Sì Sono passato L'ultimo anello Prendilo Sonic Sì Sì L'abbiamo Sbloccato Dov'è 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 Non lo voglio utilizzare Subito Eccolo Dovrei essere Velocissimo Guardate come sono Veloce Sono velocissimo Sì Guardate come sono Veloce Mamma mia Proprio Velocissimo No No Troppo bello Ok ragazzi Io direi che questo video Su Poppy Playtime Roblox Lo posso anche includere qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate un sacco di Polici In su Qua vostro Lo insiste Tutto E noi ci rivediamo Ad un prossimo Video Eccolo